Per il saluto dell'amministrazione comunale chiamo l'assessore alla cultura Briani. Prego assessore. Grazie presidente, grazie a tutti i presenti, grazie soprattutto a Cecilia Gasdia che come ha detto Stefano è veramente la voce di Verona e siamo felicissimi che sia stata lei ad accogliere un pubblico così numeroso e così qualificato come il vostro. Ho visto dal programma intenso di questi tre giorni di lavoro che è un appuntamento a questo quattordicesimo congresso nazionale FIAIP veramente importante con il rinnovo delle cariche, presidente, segretario, consiglieri quindi sicuramente buon lavoro e Verona come ha detto Stefano Bertacco è una città magnifica come forse molti di voi già sanno ma come avrete occasione di vedere credo nei prossimi giorni. Abbiamo un patrimonio straordinario di musei, di teatri, di biblioteche, abbiamo un grande fermento culturale, è una città intrisa di musica, Cecilia non è l'unico nostro patrimonio, uno dei più grandi senz'altro ma abbiamo dei magnifici teatri di pietra, è la città di Shakespeare, è la città di Goldoni. Ecco quindi è la città di Giulietta perché abbiamo un grande mito che ci rende famosi nel mondo. Ecco ma io penso che nel mondo possiamo essere famosi anche per molto altro e voi in questi giorni credo potrete vederlo. Un unico, così io ho la delega come diceva il presidente della cultura ma anche al turismo e devo dire che questo punto di vista che noi siamo insediati da poco, da quest'anno, quindi è qualche mese che lavoriamo però già in qualche mese e comunque da cittadina veronese e da residente nel centro storico non posso non porre l'accento sulle trasformazioni che anche il mercato immobiliare veronese sta subendo. Una trasformazione che devo dire è stata molto rapida soprattutto negli ultimi anni e che vede che è un po' quello mi pare che stia accadendo soprattutto nelle nostre città d'arte e cioè che vede una presenza sempre più massiccia nelle zone soprattutto del centro storico di immobili adibiti all'extralberghiero. Ecco questo è un tema per noi abbastanza scottante, lo confesso, perché è vero che se questo diffondersi così, questo essere sempre più presente di questo tipo di proprietà arricchisce in qualche modo il territorio e offre nuove possibilità ai tanti turisti sempre di più che si affacciano alle nostre città, è altrettanto vero che chi risiede soprattutto in centro storico non può non notare come sia cambiata la città, se nelle nostre vie una volta le mamme giravano con i passeggini e le signore avevano la borsa della spesa adesso incontriamo soprattutto trolley. Ecco questo non è certamente per cassare questo tipo di mercato però per attirare la vostra attenzione che sono certa è già ben presente sul problema, ecco chi amministra e chi vive città come Verona veramente desidera fermamente che non cambino il proprio profilo che è quello di città vere, di città che sono senz'altro turistiche ma sono anche molto amate dai loro abitanti. Ecco quindi è uno stimolo anche questo e io vi ringrazio davvero della presenza e l'amministrazione vi accoglie con il più caloroso benvenuto. Grazie a tutti e buon lavoro.